I tuoi 10 concorrenti più vicini stanno cercando di raggiungerti. Come batterli? Ciao e benvenuto al nostro webinar. Oggi esamineremo i passaggi chiave che ogni azienda dovrebbe compiere negli attuali scenari economici caratterizzati da incertezze e volatilità per rimanere al passo con le 5-10 società concorrenti ad essa più vicine in termini di mercato. Senza dubbio gli ultimi due anni hanno reso davvero difficile comprendere il reale posizionamento sia in termini commerciali che produttivi dei tuoi principali concorrenti ma in alcuni casi anche della tua stessa attività. Le condizioni sono mutate rapidamente sia a causa delle conseguenze economiche e sociali indotte dalla pandemia sia per la forte spinta inflazionistica a livello mondiale causata dalla carenza di materie prime e dalla crisi energetica principalmente riconducibile al conflitto tra Russia e Ucraina. Questi cambiamenti sistemici unitamente ad un'inflazione dilagante che incide in modo evidente sulla crescita dei costi di gestione operativa e a catene di approvvigionamento sempre più limitate o distrutturate hanno fortemente ridimensionato i margini operativi in numerosi settori di mercato. Molte aziende fanno ancora molta fatica ad affrontare la forte inflazione intervenuta sui costi di approvvigionamento delle materie prime nonché sui costi di gestione. Altre sono impossibilitate a garantire fin anche i materiali necessari per il funzionamento della propria filiera. Plimsoll ritiene che il cambiamento sia una costante del mercato e che le aziende di successo siano quelle che evolvono continuamente la propria strategia anticipando ove possibile i cambiamenti economici e mantenendo sempre un alto grado di elasticità e flessibilità operativa. In un dato momento la maggior parte delle aziende si confronta con 5-10 concorrenti che inevitabilmente influenzano e hanno un impatto diretto sul proprio successo a breve termine. Misurare la solidità finanziaria di questi concorrenti chiave confrontare le proprie performance ed individuare le minacce o le opportunità sono i tre imprescindibili elementi di analisi da tenere monitorati. Ecco perché abbiamo da poco lanciato sul mercato il Plimsoll Board Report. Disponibile da gennaio 2023 questo nuovo servizio trimestrale assicurerà agli organi amministrativi la possibilità di focalizzare la propria attenzione sui cambiamenti da mettere in atto per rendere attuali le proprie strategie aziendali anticipando i principali concorrenti di mercato. Abbiamo sviluppato questo servizio riservato e personalizzato per aiutare leader aziendali a rispondere a domande critiche quali. Come si confronta la tua azienda con i suoi 10 più immediati concorrenti? Rispetta la tua società chi sta andando meglio o peggio tra i due 10 concorrenti più importanti? Come si confrontano produttività, crescita, profitto e valore complessivo? Chi sta assorbendo tutta la crescita e chi sta attuando overtrading? Quale dei tuoi 10 concorrenti più prossimi avrà maggiori probabilità di essere coinvolto in una procedura concorsuale? Cosa devi fare per migliorare la tua posizione nel mercato di riferimento? Per aspirare a un futuro proficuo, anticipare e superare nei risultati i tuoi principali concorrenti costituirà una scelta imprescindibile per qualsiasi voglia strategia a lungo termine. Nello sviluppo del board report abbiamo lavorato con decine di migliaia di aziende leader in più di 90 paesi diversi. Eliminiamo la complessità dell'analisi dei bilanci finanziari e dei dati aziendali e rielaboriamo i dati facendoli confluire in un prodotto immediatamente fruibile. Sulla base del continuo confronto con alcuni dei nostri clienti chiave abbiamo identificato cinque passaggi fondamentali che i leader aziendali dovrebbero mettere in atto utilizzando il loro board report per rimanere all'avanguardia. Primo passaggio, decidi i tuoi obiettivi a breve termine e le aziende che li influenzano maggiormente. In questa fase storica emerge una certa tendenza ad assumere scelte troppo radicali, isolarsi rimanendo troppo piccoli o ingrandirsi oltre il necessario. I pericoli di prendere decisioni strategiche fuorvianti sono sempre più attuali. Al contrario i vantaggi di focalizzare la tua attenzione sulle aziende che maggiormente influiscono sul successo del tuo business sono evidenti. Il primo passaggio è semplice. Identifica le aziende che avranno un impatto o influenzeranno l'esecuzione della tua strategia aziendale e cerca di acquisire tutte le informazioni possibili sul loro conto. Ma chi sceglieresti? Con quali aziende confrontarti e saperne di più? Saranno quelle della tua zona? Società di rompente e rapida crescita? Le aziende che temi di più che ti stanno superando in termini di quote di mercato? Imprese al di fuori dell'Italia e nuovi mercati? Rivali che si trovano in maggiori difficoltà finanziarie? Oppure aziende che mantengono un'elevata solidità finanziaria? Una volta che avrai individuato le dieci società dovrai quindi analizzarle e comprenderne le peculiarità. Recuperare cinque anni di dati finanziari di dieci aziende oltre la tua è un compito dispendioso. Noi di Plimsoll crediamo che dovresti impiegare il tuo tempo e le tue risorse su questioni più importanti e produttive. Saremo noi a sviluppare per tuo conto il lavoro analitico in modo tale che tu possa concentrarti sulle decisioni che ne derivano. Ecco perché abbiamo lanciato il Plimsoll Board Report. Il Plimsoll Board Report può essere utilizzato una tantum ma molti dei nostri clienti utilizzano il servizio due volte l'anno e lo richiedono in base alle loro esigenze prevalenti. Ogni sei mesi commissionano un report per esaminare gli elementi chiave del loro panorama strategico. All'inizio dell'anno potrebbero osservare lo scenario dell'anno avvenire cercando di anticipare le strategie a lungo termine dei concorrenti. Il semestre successivo potrebbero verificare a consuntivo la velocità di crescita della propria azienda e dei propri concorrenti cercando di scoprire cosa facciano di diverso il leader di mercato. La scelta spetta a te. Secondo passaggio identifica chi tra i tuoi principali concorrenti ti sta superando in termini di performance. È vero che non puoi costruire la strategia della tua attività semplicemente imitando quella di qualcun altro. Devi costruire la tua strategia e visione aziendale attorno alla tua attività, al suo marchio e alla sua cultura. Tuttavia ci sono indicazioni che puoi trarre d'altrui operare utili per evitare anticipare eventuali errori strategici. Una volta scelti i tuoi dieci concorrenti il passo successivo è identificare quelli con prestazioni eccezionali che li rendono apicali nel settore di riferimento. Qualunque sia il parametro d'analisi il più delle volte stanno operando meglio di te. La maggior parte dei leader aziendali non riescono a rispondere alle seguenti domande ma dovrebbero. Chi sta crescendo più rapidamente nel settore? Chi è il più redditizio? Chi è il più efficiente? Chi sta ottenendo il miglior ROA? Il Plimsoll Board Report fornisce una panoramica istantanea di ciascuno di dieci concorrenti a te più prossimi. Le valutazioni grafiche che fornisce ti riveleranno i loro punti di forza e le loro debolezze. Il servizio è progettato per integrare perfettamente altre ricerche esterne che potrai mettere in atto sui tuoi concorrenti. Possiamo mostrarti nel dettaglio l'impatto finanziario che hanno avuto le decisioni e le strategie assunti da ogni tuo concorrente. Come per esempio hanno assistito negli anni a un miglioramento dei propri risultati a seguito del lancio di un nuovo prodotto o servizio? Un'acquisizione ha portato ad un aumento della redditività delle vendite o a un miglioramento dei tassi di crescita? L'introduzione di un nuovo direttore o investitore ne hanno migliorato la solidità finanziaria? I nuovi investitori hanno portato ad una maggiore solidità finanziaria o hanno compromesso la stabilità della società? Un board report Plimsoll che analizza i tuoi dieci concorrenti più prossimi ti consentirà una visione approfondita delle oscillazioni intervenute nel loro andamento complessivo. La capacità di ricondurre tali oscillazioni a eventi non finanziari è fondamentale se si vuole imparare da essi e sviluppare di conseguenza una propria strategia. Terzo passaggio. Come si confronta la tua attività? Quindi hai scelto i dieci concorrenti che ritieni avranno maggior impatto sui tuoi risultati nei prossimi mesi o anni. Hai compreso la posizione di ogni azienda e sai chi sta operando nel modo giusto. Ora la domanda più urgente è come si posiziona la tua attività nello scenario di mercato. Noi di Plimsoll ti consigliamo di confrontare la tua attività con dieci dei tuoi concorrenti e non con l'intero settore perché quest'ultimo risulterebbe troppo ampio. Tante specificità nei prodotti offerti o variazioni regionali possono apportare grandi differenze nella performance non necessariamente legate alla propria realtà economica. Scegliere solo dieci tra i tuoi concorrenti ti consentirà di concentrare le tue risorse nel superare una manciata di aziende anziché migliaia. In alcuni dei mercati con le peggiori performance semplicemente superare quelli più vicini a te può fare la differenza tra la sopravvivenza e il fallimento. Un Plimsoll Board report sulla tua attività ti fornirà una panoramica istantanea sulla tua posizione rispetto ai tuoi più prossimi concorrenti permettendoti un immediato confronto comparativo basato sui seguenti parametri profitto, vendite, crescita, produttività, valore complessivo, ritorno sull'investimento, debito in percentuale alle vendite, EBITDA e altro ancora. Il confronto della tua attività con i tuoi concorrenti sulla base di questi indici stabiliti ti rivelerà dove potresti e dove dovresti migliorare. Rimanere costantemente indietro rispetto ai tuoi concorrenti e rispetto ai citati parametri non sarà sostenibile nel lungo termine. Assicurarsi di superarli è il primo passo per scalare la gerarchia del tuo settore. Plimsoll può fornirti le informazioni di cui hai bisogno per misurare i tuoi progressi. Quarto passaggio. Individua i concorrenti che hanno maggiori probabilità di fallire. Una delle sfortunate verità del capitalismo e della concorrenza del libero mercato è che ci sono vincitori e binti. Ogni piccola nuova attività generata in un'azienda è una perdita per qualcun altro. Identificare i più fragili e precari concorrenti nell'ambito del tuo settore di mercato dovrebbe far parte della tua futura strategia competitiva. Nove aziende su dieci fallite o incorse in procedure concorsuali sono state classificate come a rischio da Plimsoll fino a due anni prima della loro scomparsa definitiva. Plimsoll analizza quasi 2000 singoli mercati di nicchia che coprono milioni di aziende in Italia. Sulla base di tali analisi abbiamo valutato circa il 20% delle aziende a rischio. Ciò significa che è probabile che almeno due dei tuoi concorrenti scelti siano in difficoltà. Questa conoscenza ti permette di valutare alcune opzioni. Cercare di acquisire un concorrente indebolito, assorbirlo o guadagnare un vantaggio competitivo sugli altri nuovi concorrenti. Mirare in modo proattivo all'indebolimento del loro stato finanziario e accelerarne la fine definitiva. Aspettare che alla fine falliscano e competere con gli altri rivali del settore per assorbire il portafoglio clienti. Anche quelle realtà aziendali conferre regole etiche che nulla farebbero per facilitare l'altrui chiusura o uscita dal mercato, trarrebbero comunque vantaggio da un'analisi preventiva dell'altrui difficoltà. Sapere in anticipo che uno o due immediati concorrenti potrebbero essere in bilico ridurrebbe sicuramente le esposizioni a eventuali sorprese e impedirebbe ai concorrenti di anticipare eventuali azioni di mercato. Con un board report Plimsoll potrai mantenere un alto indice di solidità sui tuoi dieci concorrenti più vicini in qualsiasi momento. Comprendere queste aziende le cui fortune sono legate al proprio successo è una parte fondamentale di qualsiasi pianificazione strategica. Plimsoll rimuove tutto lo stress e il duro lavoro. Quinto passaggio sviluppa la tua strategia a breve termine ed esegui. Ora conosci i tuoi concorrenti, hai una visione chiara di come si confronta la tua attività e sai di più sulla natura mutevole del tuo panorama competitivo. Sei pronto per eseguire la tua strategia per il prossimo anno o due. Utilizzando il tuo Plimsoll board report semestrale avrai a tua disposizione una visione mirata in modo da poter decidere se hai bisogno di migliorare la tua solidità finanziaria, hai bisogno di aumentare la crescita o rischi di rimanere indietro, hai bisogno di rallentare la crescita e concentrarti sui margini, stai generando lo stesso ritorno sull'investimento rispetto ai tuoi principali concorrenti, hai intenzione di superare il tuo attuale gruppo di concorrenti posizionandoti sul livello più alto, dovresti acquisire un concorrente indebolito e ottenere un vantaggio su tutti. Qualunque sia la tua strategia, Plimsoll ti fornirà una visione su misura costruita secondo le tue specifiche esigenze. Possiamo darti le informazioni di cui hai bisogno per avere successo. Quindi questi sono i cinque passaggi che raccomandiamo ai nostri clienti per crescere in modo sostenibile e strategicamente equilibrato. Ti mostrerò un video molto breve che riassume a cosa serve il nuovo Plimsoll Board Report e come può aiutarti oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci piacerebbe mostrarti un campione del Plimsoll Board Report in modo che tu possa vedere di persona come riclassifichiamo dati finanziari numerosi e complessi in analisi di facile utilizzo e lettura. Ti invieremo a breve un esempio nella tua casella di posta elettronica. Se desideri parlare del Board Report Plimsoll o dei nostri studi di settore chiamaci allo 06 94 800 175. Grazie per aver partecipato oggi e buona fortuna.